Ok sostanzialmente, il mondo funziona secondo una logica ben precisa Certo, forse è un po' ingiusta, ma tanto prima o poi tutti la dobbiamo accettare In breve, quando una donna vuole avere sempre ragione, ha ragione Invece, quando un uomo vuole sempre avere ragione, è single Insomma, come ho già detto, non legge un po' di cazzo Ma, purtroppo, per fortuna, è così che funziona il mondo Ciao Ciao